Stiamo facendo Zumba all'interno di un'azienda. E che cos'è la Zumba? La Zumba è un insieme di passi fitness uniti ai passi latinoamericani che va oltre non solo a divertire e a creare gruppo, va anche a togliere tra le 300 e le 600 calorie a lezione. Un'azienda che pensa alle dipendenti anche dal punto di vista del tenuto fisico, del benessere fisico. Al cospetto del Presidente teniamo molto ai nostri dipendenti che questa iniziativa della palestra in azienda rientra all'interno dell'UFR aziendale. Quindi tutta una serie di iniziative legate al benessere dei nostri dipendenti. Meglio stanno loro, più risultati aziendali ci sono. Guarda la che hai dei begli occhi così ci vedo. Grazie. Buongiorno mattina.